se stai avendo problemi di grafica su warhammer space marine 2 che non riesce a vedere bene i nemici sono invisibili oppure hai problemi a vedere proprio il personaggio stesso quindi in questo caso andiamo direttamente su video andiamo un attimo a mettere così lo schermo intero e poi mettiamo così la nostra risoluzione mettiamo la risoluzione 1920 x 1080 l'upscaling ti consiglio il DLSS oppure l'FSR2 sugli fps ti consiglio di mettere così 30 fps il limite e poi riguardo alla grafica ti consiglio di mettere tutto basso e basta